ciao a tutti oggi vediamo queste particolari forbici si chiamano forbici taglia campioni proprio perché hanno questa forma particolare servono per tagliare il tessuto dei pezzi di tessuto da utilizzare come campionature queste lame così dentellate servono proprio a tagliare il tessuto e ad evitare che si sfilacci non è necessario fare alcun orlo alcuna cucitura ma tagliando in questo modo si vede che non si sfilaccia assolutamente tagliano perfettamente qualsiasi tipo di tessuto anche molto spesso il tessuto resta perfettamente integro senza necessità di essere cucito queste sono forbici di alta qualità professionali prodotte a premana dalla ditta pomoni che è specializzata proprio nella fabbricazione di forbici si possono utilizzare anche per carta cartone e altri materiali ma nascono proprio per tagliare il tessuto ecco vediamo un particolare delle lame grazie per l'attenzione se vi interessano queste o tantissimi altri modelli di forbici li trovate sul nostro sito elettronicadidattica.com continuate a seguirci per i prossimi video ciao a tutti a presto